Miracolo assoluto, dalla bandierina Gomez, ancora palla in aria, Masiello, da due passi, sulla ribattuta e poi si tuffa tra i tifosi dell'Atalanta per il vantaggio della Dea. 27esimo, Cristante, trova in aria Petagna, apertura per Gomez, grande controllo col sinistro, rientra sul destro, prova il destro, e che destro, mamma che gol, 2 a 0. Che meraviglia, che meraviglia veramente, siamo trascinati non solo dall'entusiasmo ma da questa giocata, questa è una giocata fantastica, guardateli come festeggiano tutti i giocatori in campo, sugli spazi. Attenzione a Petagna, ce ne sono due liberi dalla parte opposta, Cristante in aria, Cristante, 3 a 0, pazzesca l'Atalanta, Everton in ginocchio dopo 43 minuti al Mabay Stadium. Che meraviglia, veramente.